La Calabria all'attenzione del Governo. È arrivato il via libero in commissione alla Camera all'emendamento al decreto legge flussi finalizzato a prorogare al 31 dicembre 2027 le assunzioni di medici e infermieri stranieri, tra cui quelli cubani arrivati in Calabria dopo l'emergenza Covid. I sanitari di nazionalità straniera dunque potranno essere utilizzati fino a tutto il 2027. Una decisione quella assunta in commissione a Montecitorio che di certo soddisfa il governatore calabrese Roberto Chiuto, che più volte ha sottolineato l'importanza della sua scelta di far lavorare in Calabria gli operatori sanitari cubani. Attualmente sono circa 400 i medici provenienti da Cuba e impegnati nelle strutture sanitarie pubbliche della Calabria.